Ben ritrovati con il Comizio.it dai nostri nuovi studi televisivi di Milano. Oggi parliamo di mercato immobiliare, lo facciamo con Giuseppe Shalom che salutiamo e ringraziamo. Buongiorno, grazie a voi. Titolare di Beni Fondiari, una società attiva dal 1982, dal lontano 1982 potremmo dire, ma lei ha cominciato anche prima, giusto? Io ho iniziato sì, nel 1979 per dire la verità, quando facevo ancora l'acquisitore ho iniziato vedendo un annuncio sulla Gazzetta, mi sono presentato, mi hanno dato questa opportunità e poi nell'82 appunto mi sono messo in proprio e oggi sono ancora qui. Senta, siamo in una città come Milano che dal punto di vista del mercato immobiliare è sicuramente molto importante. Qual è la situazione del mercato, qual è il rapporto con gli altri operatori, le altre forme, diciamo così, di operatori di questo mercato e quello che anche poi dopo lo vedremo magari dopo, il rapporto con la clientela, com'è cambiato? Bella domanda questa, di cui la ringrazio perché in effetti è cambiato tanto da allora, è cambiato per esempio intanto il numero di operatori perché all'epoca eravamo veramente in pochi, eravamo proprio in un momento pionieristico si può dire delle agenzie immobiliari, era diverso e oggi tutto è cambiato in particolare, per esempio il concetto di esclusiva è molto cambiato, all'epoca si poteva lavorare bene in pochi su un oggetto sul quale si lavorava con della precisione che oggi manca perché oggi veramente lo fanno in tantissimi in questo lavoro e molti arrembano con i carichi sulla parola senza accordi precisi e io su quello tengo molto a dire che è importante. Le facevo questa domanda proprio perché molti dei nostri lettori, i nostri utenti ci chiedono proprio questa cosa, quando dobbiamo comprare casa diciamo così banalmente, i soggetti più attendibili a cui rivolgersi quali sono? Sono quelli, mi scusi se la interrompo, ma sono proprio quelli che hanno avuto la capacità di ottenere dai propri clienti che vendono l'appartamento la fiducia necessaria per svolgere le cose nel modo migliore, cioè quelli che sono stati capaci di prendere l'incarico in esclusiva e di proporre un immobile in modo chiaro. Ecco, quando ci sono delle esclusive diciamo fittizie che sono magari, se sono più di uno quelli che hanno l'esclusiva, come funziona? E allora succede che intanto non può essere più di uno ad avere l'esclusiva, noi pensiamo che appunto siccome molti pensano di avere più possibilità, dicono ma io avendo tre agenzie ho più possibilità di velocizzare la mia vendita, due agenzie, invece queste possibilità si riducono perché in realtà con una sola agenzia anche i clienti delle altre agenzie possono arrivare all'oggetto previa una concertazione fra professionisti che permette di indirizzare la trattativa in modo lineare. Invece quando cominciano a configurarsi delle vendite che vengono proposte a più voci, a quel punto queste voci diventano concorrenti, contrastanti e si determinano delle sinergie negative sulla vendita perché tante volte le agenzie per la fretta di battere il concorrente magari danno anche delle indicazioni diverse sul prezzo oppure addirittura ci sono quelli che danneggiano la trattativa perché si rendono conto che il loro cliente sta per andare a comprare la stessa casa da un altro, quindi queste sinergie vanno evitate con l'esclusiva. Allora questo è un elemento di chiarezza sicuramente importante quello che ci ha fornito perché molti queste cose non le sanno. Noi torneremo a parlare di questo tema che ci sembra particolarmente importante e significativo e ci viene richiesto molto l'approfondimento appunto di questo tema. Prima di salutarci vorrei chiederle la situazione attuale del mercato soprattutto parliamo di Milano e della Lombardia in periodo di pandemia e forse post pandemia quali sono gli equilibri di mercato in questo momento? Ma devo dire la verità anche noi quando è iniziata questa pandemia ci siamo preoccupati non poco per quello che poteva essere il momento al quale saremmo andati incontro. Poi però le cose si sono svolte in maniera diversa perché nel nostro settore invece appare in questo momento che c'è un grande fermento e probabilmente molti che non potevano forse fare altro che concentrarsi sulla loro questione immobiliare, chi doveva vendere, chi doveva comprare, si è concentrato su questo e contrariamente ad altre attività la nostra è rimasta più o meno come prima. Lo dico, magari qualche mio collega penserà che sto andando a ledere la loro richiesta di ristori ma personalmente la Benifondiari credo che dei ristori in questa fase penso che possa far parte di quelle società che non li chiederanno perché non ne ha avuto bisogno. Per rispondere alle sue domande il mercato in questo momento è florido. Sì, era quanto risultava anche a noi però ci interessava saperlo da un operatore centrale di questo mercato. Temi che ci interessano moltissimo e torneremo a parlarne. Se vorrà ancora cuore Giureppe Shalom che io ringrazio molto per aver partecipato a questa trasmissione. A presto. Ilcomizio.it La voce di tutti, la tua voce Leggi e sfoglia online tutti i contenuti dei ilcomizio.it Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento Interviste esclusive ai personaggi del momento In più servizi e rubriche sui comuni problemi legali Le risposte dei nostri avvocati Un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina Eventi e stili di vita, società e professioni Ilcomizio.it La voce di tutti, la tua voce